Vedi come l'hanno trattata? Come la signora. Hai visto come è arrivata? Felice. La prima cosa che arriva è il cuore a felicità, perché arriva la luce nel cuore. Ma quelli che l'hanno rapita però sono terroristi. Ma quali terroristi? Quelli sono persone che fanno la brighiera. I terroristi siete...